Ciao ragazzi, buona vista alla vostra attuale della Pena Opaia di Pindosa, andiamo a usare un paio di interazione che vi ringraziamo di tutti voi, è il calcio sport più bello del mondo e oggi con cui per l'unico pronostico della giornata parliamo di Milan-Lecce la quale partita dico sarà da uno più non gol, quindi terminerà 3 al 0 per il Milan i marcatori, non ho tutti questi marcatori in mente, però se poi vi consiglio Rafaelao e Alvaro Morata questo è il mio pronostico, quale è il nostro, scrivetelo nei commenti qua sotto vedete, questo è un documento orizzontale per questi video verticale, per quell'altro mi sta aiutando a fare successo insomma, mi sta dando una mano, per che a voi vi piacciono questi video e sono molto contento di questo ragazzi quindi ci aggiorniamo, a presto e buona la prima con la rima in giocassima schedina e stasera in giocassima schedina ci risentiamo, o non so se penso, buona rima